Nasce a chiedere il nuovo gruppo consigliare Liberi a Sinistra che propone delle strategie da perseguire ma soprattutto un cambio di passo. Noi nasciamo per dare un impulso all'azione amministrativa per fare ancora meglio di quello che fino ad ora si è fatto. Lo facciamo con spirito critico e costruttivo al tempo stesso principalmente su tre questioni principali. Innanzitutto dare una sterzata alla gestione degli uffici e all'efficienza anche degli uffici stessi. Abbiamo avuto il commissariamento ad acta sul rendiconto e un tema su cui dobbiamo interrogarci. Noi poniamo questo problema a livello metodologico come organizzazione del lavoro all'interno della macchina comunale e poi la riorganizzazione dei servizi delle partecipate. L'ottimo lavoro del dottor Diorio sulla tese dei servizi è arrivato anche se potevamo agire molto prima, ancora prima che ci fossero le azioni giudiziarie che abbiamo conosciuto. Sulla Chiedi Solidale io so che si sta lavorando, fatto sta che anche una collegialità e una maggiore condivisione delle scelte anche con i gruppi consigliari è quello che auspichiamo perché poi appunto se vogliamo cambiare definitivamente passo le decisioni devono essere prese nei luoghi della politica e della democrazia e non per i corridoi o lungo i portici del Corso Varuncino. Vogliamo un cambio di passo principalmente nella questione delle metodologie per quanto riguarda le scelte, per quanto riguarda gli orientamenti futuri. Vogliamo dei tempi che vengano velocizzati, vorremmo che venissero realizzate le cose che abbiamo detto in campagna elettorale, avere una visione strategica di quello che deve essere il ruolo della città ma tutto ciò comincia a essere difficile perché siamo ogni giorno pressati a rincorrere le varie situazioni. Il non rincorrere situazioni secondo noi, considerando anche la carenza di organico dell'amministrazione comunale che notevolmente siamo arrivati a 180 su 300 che prevede la dotazione organica, non può verificarsi se non cambiamo radicalmente l'organizzazione e quindi con sistemi informatici o digitalizzazione, sistemi di pagamento più efficaci e gestionali che siano condivisi fra l'ente e le società partecipate. Insomma un cambio di passo che ci permette di affrontare le cose con un attimo di respiro in più senza dover rincorrere sempre le situazioni.